Siamo ovviamente tornati Allora in questo episodio Io vorrei Avevo detto che sarei passato a conquistare l'Afghanistan e il Pakistan Però preferisco conquistare l'Egitto Per un motivo strategico Che nello scorso episodio avevo ignorato E che adesso invece Ho preso di nuovo in considerazione Che è appunto il canale di Suez Quindi Dovremo addestrarci Perché tutti i livelli così bassi Ho aggiornato le divisioni Boh non lo so comunque Ci addestreremo un pochino e poi passeremo Però non so quanto tempo ci vorrà Non penso molto Come risorse siamo messi Non siamo messi tanto bene Andremo un bel po' in positivo di equipaggiamenti Siamo indietro di acciaio Però Una cosa molto positiva Stiamo producendo nuove fabbriche di acciaio Quindi a breve dovremmo andare in positivo Senza troppi problemi Facciamo questi Ho 22 punti esperienze Che non ci serviranno Non ci basteranno Per creare un nuovo modello di divisioni corazzate Che ho intenzione di fare Quindi Andremo a aspettare purtroppo Vediamo un po' come si è messi Il vello 8 Eh ci vuole un po' Però almeno Così facendo Riusciamo a raggiungere Una buona scorta di Equaggiamenti di fanteria Che ci servono Vi faccio vedere il mio modello di divisioni Così mi dite nei commenti Cosa ne pensate Questo qua 39 pezzi di combattimento Perché stiamo Utilizzando una Tattica Una dottrina militare Che Questa qua Che ci riduce Il peso Della piazza di combattimento Delle divisioni Non divisioni Dei battaglioni di fanteria Perfetto Facciamo così Tanto 40 milioni di Uomini Una roba assurda Volendo forse potremmo portarlo più basso Ci aumenta Di un sacco La Madonna Penso che così Deveva andare bene Così Quindi lo mettiamo subito Vediamo i carri nuovi Molto bene Vediamo se possiamo Crearne Ricercare un modello nuovo Non Se in realtà Si Ricerchiamolo Allora Siamo nel 6 dicembre 2022 Quindi siamo Molto in avanti Col tempo Rispetto a Le date realistiche Allora Potremmo Ricercare Visto che siamo Già in uno stato Molto potente Iniziare Per le ricerche Alla bomba atomica Che potrebbe Potrebbe servirci Se solo Potessimo usare ieri Quindi in realtà Non ci servono un cazzo Vedete che sono tutti Buggati Quante divisioni ha Ce la facciamo benissimo Allora 17 Quindi Ovviamente Finché passiamo A livello 21 Ovvero Li portiamo in addestramento Gli altri Sono già tutte 21 Mancano solo queste qua Che sono le ultime Uscite Penso Non ne sono molto sicuro 19 Ci vuole poco Valore tradizionali Facciamo questo Seguizia nazionale Il partito nazionale Cresce ancora Quindi molto bene Siamo positivi Madonna Quanto accello Stiamo producendo Finalmente comunque Siamo positivi Come avevo detto È un po Forse un po' rotta Questa funzione Di Costruire Faberiche per l'acciaio Boh Non ne sono Non ne sono molto sicuro Sono un po' contraria Comunque adesso Andiamo un sacco Dovremmo essere pronti Perfetto Siamo pronti Quindi Interrompiamo L'adestramento E Facciamo così Perfetto Allora da qui Non ci sono Provincie Con le quali Possano attaccare Quindi andremo a fare così Perfetto Orgono a aspettare Che si organizzino Ci vorranno Penso Un mese Per fare tutto Eseguire tutta la perfezione Facciamo così Volendo potremmo anche Metterlo Eh però ci da L'unica cosa che Potremmo benissimo Metterlo E stare buoni Per le popolazioni Anche con questo Solo volontari Però Ci da Almeno 15 punti In Possibilità Di entrare in una fazione In grosso modo Ci toglie 15 punti Di approvazione Per entrare in una fazione Quindi Non va bene Questa cosa Siamo pronti? No Stanno ancora preparando Allora aspettiamo Un pochino 25 Come avevo Previsto Per un mese Pronti Quindi Giustifichiamo E dovremmo andare Abbastanza bene Vediamo un po' Aggressivo Perfetto Tranne in alcuni punti Però Nella maggior parte Delle province Stiamo sfondando Morti Vediamo un po' 11.000 40.000 Stiamo facendo un botto Di morte anche noi Non capisco Per quale motivo Tentennino così tanto Ah è perché sono province Molto grandi Per quello ci vuole molto A spostarsi Va bene dai Sicurezza nazionale Valori tradizionali Ci da Più 20% Di popolazione mensile Però Ci da Un 35% In meno Di produzione Invece questo Popolazione mensile Meno 5% Però Ci da Più 35% Di Produzione Quindi facciamo Questo Visto che Con i uomini Siamo messi Molto bene Visto che Siamo Annettenuto Di questi stati africani Che hanno un sacco Di popolazione Perfetto Siamo un po' lenti qua Andremo ad andare Più velocemente Forse se Gestissi Manualmente Il tutto Tanto non ci Fermeranno Mai No Invece Subito La divisione Corazzata Però Non va Non vanno Dove Ah perfetto Ci possiamo Saccare Tranquillamente Faremo Così Non è stato Poi così Tranquillo Anche perché Sono ritirati Mannaggia Madonna Di merda Siria Vabbè Va Subito Devastati Subito Avete visto Un secondo Sono durati Complimenti però Che hanno provato A fare questo sbarco Ammirevole Dai su Quanto durerete Ancora Ovviamente Tutti gli stati Che erano Precedenti A Grosso modo Cairo Sono Non valgono Per la capitolazione Perché Le città principali Sono concentrate Al nord Dell'Egitto Cairo Giza Alessandria Sono città maggiori Molto lunga Questa guerra C'è un'infrastruttura Davvero di merda Perché combattiamo Nel deserto Che cosa possiamo Fare qua Sviluppo Sviluppo No Costruttura Di strade Industriale Di guerra Facciamo questo Ovvio Morto In 30.000 E 300.000 Egiziani Comunque È strano Il fatto che L'attenzione mondiale Sia sempre così bassa Ci avessi fatto Una cosa del genere Dicevo Avessi fatto una cosa Avete rotto i coglioni Dove voglio sparcare Di nuovo in Siria Vabbè Attacco Respinto Dicevo Avessi fatto una cosa del genere In Sirian 4 normale Mi avrebbero Sfondato Tutti gli alleati Perché sarebbe già 100% In ritenzione mondiale Forse un po' Troppo bassa In questa moda Cioè nel senso La gente si Si stupisce Troppo poco Abbiamo preso Il Cairo Esatto Abbiamo fabbriche disponibili Vediamo un po' Facciamo fabbriche militari Nuove ricerche Stampanti Perfetto Facciamo questo Abbiamo un sacco di incrementi Ora andiamo diretti Verso Alessandria Così Potremmo farcela Vediamo Ancora altre divisioni Non ce l'abbiamo fatta Eh sono Sono 8 divisioni Penso Se non di più Steady build rate Dov'è? Ma non c'è Che cazzo me ne frega Non c'è Non lo Non la metto Quella Sono uno svantaggio Dov'è capitolare adesso No ancora Allora perfetto Quindi Egitto Capitolato Molto bene Annettiamo tutto 30% di tensione mondiale Finalmente si sta alzando Un pochino Eh diamo un'occhiata Al Pakistan Dovrebbe dirci Quando può Ecco Per entrare in una fazione qua 25% Quindi già lui ora Potrebbe entrare in una fazione E spaccarci il culo Eh altri Lui 50% Quindi lui possiamo attaccarlo E andremo In Afghanistan A combattere Molto bene Molto bene Siamo un po' indietro Di equipaggiamenti Della fanteria Se ne servono di più Giustamente Stiamo Combattendo Usiamo un sacco Di equipaggiamenti Quindi Però con la nostra Nuova produzione E le nostre Nuove fabbriche Andremo a produrre Dovremmo Essere a posto Altri stati Che posso attaccare Con il 50% Il Turkmenistan E penso anche Altri stati Esatto La Libia La Libia È molto buona All'attaccare Stati africani Anche tutti 50% Immagino 50 Uganda No Questo è nazionalista Ah super 50 Tutti i 50 Tutti i 50 Anzi Annettere Il Congo Per le risorse Ma non ha Non ha un cazzo Forse mi sto confondendo Con lo stato Come avete suggerito Però Non ha nulla Di particolare Quindi attacchiamo L'Afghanistan Il Turkmenistan E poi continuiamo Con l'espansionismo In questi stati Africani Quindi direi In precedenza La Libia Tutta l'Un'Africa Sarebbe buona Conquistare 50% Tunisia Algeria Volendo Marocco Sì Possiamo farle tutti Facciamo tutto Nord Africa Molto buono Divisioni Dall'Afghanistan 11 divisioni Quindi possiamo Attaccare subito Allora Facciamo subito Qui diamo dei punti Perfetto Qui non serve Neanche che io Metta mano Al piano Perché è tutto Tutto molto semplice 72 morti Come equipaggiamenti Stiamo Ci sono dei Movimenti in cui Combattendo Consumiamo davvero Troppi equipaggiamenti Quindi dobbiamo Aumentare di molto La nostra produzione Se vogliamo mantenere Un esercito di questo tipo Del tipo Almeno così Perfetto Afghanistan Capitolato Quindi proseguiamo Con il Turk Mainstan Che penso che sia Un bel po' più Militarizzato Quindi potremmo avere Delle difficoltà Penso 40 divisioni 8-9 Quindi fa schifo Va bene 33% di tensione mondiale Dobbiamo stare attenti Vediamo se la Russia Mi vuole Come alleato Oppure no Sì Perfetto Dobbiamo solo aspettare Questo 50% Di Di tensione Mondiale Per poter Entrare In fazione Con la Russia A questo punto Penso che potremmo Anche considerarci Forti come la Russia Attenzione Conquistiamo la Russia Invece che allearci Con lei Quante risorse ha? Madonna Potremmo conquistare La Russia Detemi nei commenti Che ne pensate Perché mi avete detto Che forse Potrebbe diventare Noioso Una conquista mondiale Visto che stiamo diventando Molto forti Quindi mi ricomento Se volete un'alleanza Con la Russia Oppure noi Conquistiamo la Russia Perché non è Uno scenario così Uno scenario così Tanto Stravagante Diciamo Potremmo farcela Quindi dichiariamo Guerra Turkmenistan 3500 Di tensione mondiale Alla fine di questa guerra Arriveremo Grosso modo Penso a 38 39 Anche qui È stato molto facile E dovrebbe essere Anche breve Perché le città maggiori Sono tutte al confine Già a metà siamo Allora Facciamo così Turkmenabat Così dovrebbe capitolare Vediamo No Mi sbagliavo Per cui c'è una città Adesso si 98 99 100 Capitolato Perfetto Quindi mettiamo il Turkmenistan E adesso Annessi tutti questi paesi Passiamo Ad annettere la Libia Nel 8% Non entrerà mai Nessuna fazione Quindi Abbastanza sicuri Non sicuri Ma abbastanza sicuri Procediamo Per conquistare la Libia Ora forse siamo messi bene Come occupaggiamenti Spero di sì Dovremmo produrre più divisioni Però dovremmo anche aspettare Di aumentare la nostra La nostra Potenza industriale Dovremmo anche Aumentare qui Produzione Rattiglieria Servono Molte più fabbriche Quindi Qui la Libia Della legina è davvero Di merda Poco equipaggiata Per una 33 E ha 4 fabbriche militari La Tunisia 4 fabbriche 7 L'Algeria Marocco Penso un po' di più 3 Di meno Va bene Quindi l'Algeria È la zona più Militarizzata Del nord Africa Ora direi che siamo pronti Se devono solo equipaggiare No? Oh Christ No Siamo ancora Divisionali a sistemare Queste Quindi Ora siamo pronti Passiamo subito A dichiarare guerra Qui diamo dei spazi 38% di versione mondiale Ah quante? Zero nave Quindi È giunto il momento Di spostare Il nostro dominio Anche nel Mediterraneo Oh Cristo Perché no? Dicevo È giunto il momento Di spostare anche Il nostro dominio Nel Mediterraneo Perché cazzo non posso? Ah perché siamo Nella versione vecchia Di merda di gioco Che Posso selezionare Solo 3 mari Quindi facciamo così Mi sono perso Le fasi iniziali Della campagna Comunque Andiamo sfondati In tutte le province Molto bene 38% di attenzione mondiale Stiamo procedendo Molto bene 999 morti Trucchi E 100.000 morti Della Libia Fanno così Tanti morti Perché hanno divisioni Che sono Poco organizzate E hanno pochi Eguaggiamenti Quindi tutti gli uomini Che sono stanziati Lì dentro Muoiono subito Per attriti Poi si fanno Anche saccare Così Che sono Deletardati Riforma Dell'educazione Perfetto Siamo ancora in positivo Di equipaggiamenti Quindi penso che Siamo riusciti Chi è che ha usato Aggiungermi Alla sua lista Amici Eh no Non so chi sia Oh cazzo È già sparito Oh no Non penso di averlo accettato Vabbè Mi ha inviato la richiesta E poi l'ha chiusa Ha fatto bene Tanto non le avrei accettate Allora Qui continuiamo Facciamo così Veloce verso Tripoli Quanto manca La capitulazione Siamo più di metà Quanto siamo 39% Merda Per quale motivo Vabbè Non ci interessa Comunque ora dobbiamo capitolare Perfetto Libia è capitolata Molto bene Passiamo con la Tunisia 43% Attenzione che Cominciamo a rischiare Allora Vediamo un po' Se la Russia ci vuole ancora Certo Uzbekistan 50% 50% Però è in fazione C'è setio di merda Quindi non possiamo Conquistarla Purtroppo Uzbekistan Uzbekistan Però sì 5 fabbriche Direi che non ci fanno male No Estriamo altre fabbriche militari Ora qui Direi che siamo pronti Perfetto Quindi giustifichiamo 45% Dezioni mondiale 44% E' scesa Perché? Main battle tank Main battle tank Quindi qui penso che ora non potremo vendere avanti Perché ci vorrà troppo tempo Esatto Quindi ci dovremmo concentrare in altro Tipo Questi nuovi sistemi Di equipaggiamento delle armi Ora qui dovrebbe essere tutti stati Distrutti Quindi possiamo tranquillamente andare avanti Dritto Verso Tunisi E dovrebbe capitolare Mi fa vedere la guerra Buggata Perfetto Non ci ha fatto vedere i nostri morti Perché era buggata Comunque andiamo bene 47% di tensione mondiale Quindi penso che Adesso dichiarando guerra l'Algeria Dovremmo Superare il 50% di tensione mondiale Quindi sicuramente entrerà nella Nato Sicuro L'Algeria è garantita dal Western Sahara Che cazzo è? Ah da questo è stato di merda Si garantiscono vicenda Perché sono Anti in Marocco Quindi è una E sono delle garanzie in funzione anti in Marocco Ho capito E devo valutarmela questa cosa Incominciamo intanto a schierarci Bisogna vedere se ci conviene di più Invadere l'Algeria 7 fabbriche militari 2 Cantieri navali E 10-11 Fabbriche civili Contro L'Uzbekistan 5 E 8-10 Conviene di più l'Algeria sicuramente Però è rischioso come vi ho detto Aspettiamo un pochino intanto Poi vediamo cosa fare Passiamo un pochino interna Tac uno stato migliore di questo in alternativa il pakistan il pakistan me ne ho scordato del pakistan attenzio ah no lui è vero 25% di entrato in fazione quindi non me ne ho scordato ma semplicemente non possiamo attaccarlo perchè sicuramente entrerà in qualche fazione strana va bene basta per questo è tutto ci siamo presto in un prossimo episodio ditemi cosa ne pensate cosa vi è piaciuto di questo episodio e se secondo voi dovrei innanzitutto alle armi o attaccare la russia quindi le armi con la russia oppure attaccarla e secondo se c'è quale stato preferite che io attacchi l'algeria oppure l'uzbekistan ditemi nei commenti cosa oppure nessun dei due ci siamo presto in un prossimo episodio ciao ciao ciao